Salve a tutti! Finalmente sono tornata dopo una vita e mezza e scusate se non guardo tanto in camera ma come potete notare sto guidando e sono tornata con un vlog e su cos'è questo vlog? è praticamente su un concerto. Ebbene sì, non ho il secondo vlog di un concerto in realtà e vi dico già preparatevi presto che ce ne sarà un terzo tra poco e il concerto su chi sarà? Sarà su Max Pezzali, infatti questo vlog lo faccio esclusivamente solo, scusate se non mi vedete più sto girando esclusivamente solo, perché è Max Pezzali e ho il terrore perché non dino ricordarmi più le parole però dai, speriamo bene e poi comunque spesso quando sei ai concerti si ricordano ma non allunghiamo oltre, cosa devo dire? Adesso vado a prendere la Giulia a casa sua e poi andiamo al concerto anche perché sarà già pieno di gente, visto che sono le 3 e mezza e il concerto alle 9 quindi sarà già pieno di gente però noi cercheremo di infilarci. Quindi ci vediamo a tra poco e ciao! Sono arrivata dalla Giulia, mi sono un po' sistemata, nel senso ho messo il rossetto ma come dico sempre io, un po' di rossetto fa la differenza, non fa la differenza e eccola Giulia! Siamo prontissime ad andare... Tantissimi! Vabbè ma dai qualcuna vecchia la salta! Beh ovvio, ma io non ho problemi di... Io sono prontissima ad andare al concerto e andiamo perché più tardi andiamo, più aspettiamo, più indietro saremo quindi... Vabbè si spinge! Sì vabbè, comunque preparatevi alle sue, non lo so, alle mie urla, alle mie grida, alla mia voce quando non ho la voce... Basta! Alla mia voce quando non ho la voce, ha senso, va bene e comunque avete capito? Persone che, pur non essendo uguali a me, anche se non proprio identiche, c'era qualcosa, qualcosa che... Forse che si fa quello che si può, forse che si fa quello che capita, con più o meno dignità Forse è come pescare un numero e sperare poi in quello che capita, senza troppa logica Ok siamo arrivate, abbiamo parcheggiato al Palafabris che... Cinque euro? No, cinque euro! Eh stavo per dire che non è più Palafabris, non so parlare gente! Questa è la problematica di andare a un concerto di Max, lasciate un mistero Per lei! Per me, no, è Palafabris che ormai si chiama QN Arena, che è il nome da schifo ma va bene Va bene, è il nome della roba... Sì vabbè, dei cibi biologici E adesso stiamo per entrare L'attesa è snervante, infatti devo giornare in bagno, bene, quindi ciao! Andiamo! Andiamo! Grazie a tutti. A tuo forte e potente penso che Sembra giacerato e impossibile Con il tetto che sembra esplode Che non sarebbe più per vivere Che potrebbe scomparire l'universo Tra me e noi Tra me e noi Tra me e noi Tra me e noi La luta del gioco vero, se vuoi da l'intesa, mi ha disegnato, e poi ricordo, io non stavo più di ma, ma la prima opportunità, scatto subito e la luta del gioco, la luta del gioco. La luta del gioco vero, se vuoi da l'intesa, mi ha disegnato, e poi ricordo, io non stavo più di ma, ma la prima opportunità, scatto subito e la luta del gioco vero, se vuoi da l'intesa, mi ha disegnato, e poi ricordo, io non stavo più di ma, ma la prima opportunità, una salita, una sciocchele brino, se vuoi da l'intesa, mi ha disegnato, e poi ricordo, io non stavo più di ma, ma la prima opportunità, e poi ricordo, io non stavo più di ma, ma la prima opportunità, Luta viene da l'intesa, mi ha disegnato, io non stavo più di ma, ma la prima opportunità, Hanno ucciso il loro bagno, non si sa neanche perché Avrà fatto qualche strada, qualche più stagione a me Rotta per casa di Dio, stiamo provando alla festa Rotta per casa di Dio, stiamo provando alla festa Rotta per casa di Dio, stiamo provando alla festa Rotta per casa di Dio, stiamo provando alla festa Rotta per casa di Dio, stiamo provando alla festa Rotta per casa di Dio, stiamo provando alla festa Rotta per casa di Dio, stiamo provando alla festa Rotta per casa di Dio, stiamo provando alla festa Rotta per casa di Dio, stiamo provando alla festa Rotta per casa di Dio, stiamo provando alla festa Rotta per casa di Dio, stiamo provando alla festa Rotta per casa di Dio, stiamo provando alla festa Rotta per casa di Dio, stiamo provando alla festa Rotta per casa di Dio, stiamo provando alla festa Rotta per casa di Dio, stiamo provando alla festa Rotta per casa di Dio, stiamo provando alla festa Rotta per la festa, Rotta per casa Rotta per casa Rotta perjamin Rotta per quando dentro Rotta Rotte perissuta Rotta via Dio, stiamo provando alla festa Rotta per vivere Niente, questo vlog finisce qui E spero vi piaccia Spero comunque vi siete divertiti anche voi A guardare il concerto insieme a me Visto che ha fatto un video Il concerto intero ha filmato Esatto, ho filmato il concerto Quindi sarà un problema Montare tutto No, scegliere le canzoni E niente, ci vediamo al prossimo vlog Scusate per come sono presa La Giulia vi saluta Io vi saluto E quindi ciao!